Ciao mio caro amico aspirante, trade professionista e profittevole Bene, questo trade di oggi, mercoledì 18 luglio 2018, è iniziato proprio nella sessione overnight a 28 minuti dall'apertura del Pitusa Perché? Perché dopo che c'è stata questa veloce probe a ribasso, sotto questa linea magenta all'importante livello della sessione Pitusa di ieri Io sono entrato long alla rottura, verso il POC della sessione overnight con l'ultimo target, che coprimo i due target intorno a quest'area qua, ok? Come vedi qui ci sono 1045 ordini di acquisto, un tick proprio sotto a questa linea di ora la magenta, scusami, e poi sono stati due buy, stack and balance E quello è stato proprio l'input che mi ha fatto andare long alla rottura Come vedi, come sono entrato, il mercato ha speso del tempo qui per fare un accumulo di... pensavo che la relazione era a ribasso in realtà, vedi, accumulavano per andare long e poi questo è il volume composite degli ultimi 5 giorni come vedi c'è stata questa veloce probe che ha segnato il minimo overnight questo rettangolo rappresenta quei buy, stack and balance della sessione overnight e il mio target, vedi, era qui sul POC di questo volume composite degli ultimi 5 giorni e l'ultimo target qua, ok? sul POC overnight come vedi il mio stop loss era proprio sotto sotto a questi tre grossi stack and buy and balance e il mercato ha accelerato poi al rialzo andando a prendere i miei target i primi due target, come vedi, e poi a questo punto ho messo il mio stop loss da qui a stop, a break even, quindi proprio sotto questo grosso buy and balance di 868 ordini proprio un tick sotto il 7m di Chicago, questa linea verde e ho aspettato che il mercato avesse un'accelerazione a rialzo per andarmi a prendere l'ultimo target sono stato un po' lì, poi alla fine ho deciso di spostare il mio trading stop da qui sotto questo grosso odio di 981 ordini proprio in prossimità del WIWAP come vedi e il mercato da fatto mi ha stoppato e sto a profit chiudendo la mia sessione con 165$ di profitto bene caro amico, io ti ripeto ancora una volta che se vuoi imparare a diventare un trader professionista e profittevole ed esserlo ad ogni sessione di mercato specialmente nei few generazioni e opzioni allora scrivimi la tua storia adesso e mandamela al link sotto a questo video io ti prometto che ti riontaterò e vedremo se possiamo lavorare insieme ovviamente dietro a pagamento nella mia fantastica diversificazione per trade che farà meraviglia per il tuo trading future stock e option facendolo diventare professionistico e profittevole ciao da Armaite e ti auguro grossi e grazie su così profitti ad ogni tua prossima sessione di trading ciao